musica 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 we are heroes signori e signori benvenuti in questo 35esimo episodio di fifa carriera allenatore vinciamo contro l'irlanda si o no si o no si o no 3 a 2 incredibile de bene pogba e la casetta questo sarà un episodio molto importante e voi vi chiederete il perchè e fate bene perchè non lo so in effetti siamo 8 punti in più della juve e con filippo giacoletti modalità campione sereno schiacciato troppo presto sassuolo lazio felipe anderson vincerà la classifica dei marchetori se segna si berardi e no e che cacchio berardi fermatelo fermatelo e bravissimo bongo non avete per immobile subito col destre che schifo una ciabatta e la crossa e ci arriva e non è vero e che tiro e non è vero no va bene e signori è finita la scuola per voi io ho l'esame di maturità quindi è viva suppongo l'avete perfetta e finisce il primo tempo 0 a 0 suppongo o su di do nope nope eh vabbè marchetti non è vero non è vero non è possibile non è possibile felipe anderson passa invece bongonda la para così bongonda la para ma porca la miseria ma porca la miseria porca la miseria gol 1 a 1 grazie felipe anderson mi stavo alterando leggermente bongonda bongonda luis alberto tucce ma proprio perché dovrei parlare questo non copre il fatto che marchetti ha fatto una boiata felipe anderson di beh 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 gol 3 a 1 questo non redime ancora marchetti fa gol lulic e la prima è andata abbia vinto 3 a 1 in strarimonta è tornato pure savage la juve rimane a meno 8 ma noi siamo contro il napoli porca trota e ora con leonardo samilano modalità campione e coperto Lazio e napoli tutti sanno le difficoltà che ho con il napoli ogni cavolo di anno finchè non ho preso il napoli in quel caso non ho avuto più difficoltà contro il napoli no fe 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 mamma mia che salvataggio pallone viene messo bigly alla para ma chi la para? chi è questo? wallace di test gol ho fatto gol è gol wallace chi è in quel portiere? gianfranco? no 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 eh vabbè undicesimo il napoli ora mi spiego molte cose porca miseria marchetti ce l'ha fatta a sommer c'ha in porta attenzione batto la punizione ps non sono capace e abbiamo insomma la punizione palo interno non è possibile proprio lì mannaggia la cacca savage di test finisce il primo tempo 1 a 0 per noi molto rischioso ma posso fare gol quando voglio praticamente pallone passato era liberissimo bigly aaa 2 a 0 finalmente segna e ora ce la possiamo giocare tranquillamente ok 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 forse il fatto di giocare tranquillamente non è il miglior approccio diciamo e vinciamo 2 a 1 ha e contro il genoa facciano giocare un po' la seconda squadra e con filippo giacoletti che strano modalità capione sereno genoa lazio fai che non faccia come il cagliari fai che non faccia come il cagliari non capi e autogol vero no ho fatto gol palladino undicesimo gol in campionato aggiungerei murgia la pia eh c'è la piazza a casa la piazza e c'è pure perini in porta che bello e sono in avanti liberissimo murgia murgia palo rovinarsi una media calcistica facendo giocare la seconda squadra ma dobbiamo fare dei miracoli per pareggiarla murgia murgia e ma murgia basta io ti do gli spazi sei giovane mi fai schifo e finisce il primo tempo 1-0 per il genoa calcio di rigore e beh giusto perchè si è ovvio stracoscia pre mamma mia 2-0 genoa se oggi vi ce la mette al centro il tiro la bara pure felipe anderson gol 2-1 76esimo pallone di te gol 3-1 e vabbè bongonda col pallone bongonda in velocità bongonda bongonda gol e tu nella portiere 3-2 ma che vergogna che poi basta chiamarlo bongonda non è mai bongonda se fa gol e giorgevic e perdiamo 3-2 ci stavo riuscendo il pieno di non dire dell'episodio perfetto è andato in frantone adesso la prossima volta che gioco con la seconda squadra non esiste felipe anderson è primo con 18 gol ma seguito da lì e ora come valvola di sfogo contro il palermo con la bella maglia stranamente con filippo giacoletti ma detto campione sereno non è controllato il palermo subito all'atta mamma mia calmo calmi tutti oh ha una difesa molto più compatta di quanto pensassi felipe anderson eh niente ma è gol che abbia fatto un bel gol ha fatto un gran gol sergheipiputkin chi è questo? ah savic ok potevate scrivere dietro a maglia ma va bene bongonda vi è messo giù finalmente un calcio di rigore immobili però è crossato al centro e va bene va bene va bene wallace wallace no è bongonda ha fatto gol bongonda ovviamente quando non è lui è lui va bene così sono curioso di vedere i dati della partita ah eh infatti eh la parata non sto rischiando affatto ma non è lanciato Mobbacks va e segna felipe anderson felipe anderson felipe anderson quale stagione immesso al centro è subito un altro gol che poi subito voleva essere subito però l'italiana è morto 3 a 2 Il Palermo di adesso sono io prima Solamente che ha avuto più tempo Immobile 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 Che gol ha fatto Di punta 4 a 2 Finita così e finisce così 4 a 2 quindi grazie a tutti per avermi visto Non ho ancora fatto l'episodio Perfetto e ci vediamo Al prossimo